Ora, usare le carte di pagamento conviene. E tanto! Con l'Extra Cashback di Natale, la prima misura del Piano Italia Cashless, dall'8 dicembre, se fai almeno 10 pagamenti con carta, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro in un solo mese. Usala sempre nei supermercati e nei negozi, ma anche con l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti. Per partecipare, abilita le tue carte sull'app Io. Per registrarti sull'app, usa la tua carta di identità elettronica o speed. Scopri come su cashlessitalia.it E dal 2021 partecipi anche alla lotteria degli scontrini. Usa le carte, guadagni, vinci e cambi il paese.